Sono stati momenti di apprezzione, quelli vissuti da alcuni automobilisti che oggi pomeriggio mentre stavano percorrendo la via Stella Cinese tra Alcamo e Alcamo Marina, durante forti raffiche di vento hanno visto una tettoia di un edificio volare via e adagiarsi piegata in due sui cavi sospesi dell'elettricità situati sopra il margine della carreggiata. Il vento ha infatti spazzato con violenza, tale copertura che per pochissimo non è andata a piombare direttamente sulla strada con il grave rischio di provocare incidenti. Per fortuna quindi non si registrano feriti. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e la polizia municipale che hanno dovuto effettuare un lungo intervento per ripristinare alle condizioni di sicurezza la normale viabilità. Grazie. 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 Grazie.